ciao e grazie quinta puntata di bar stadio intanto siamo tornati qui in redazione e ora vado a presentare il mio primo ospite poi ne avremo anche un secondo renato zucca presidente di avisport ciao ciao a tutti siamo qui siamo tornati in occasione e io voglio andare subito dritto nel farti qualche domanda come è nata quest'idea e siccome si parla di sport che anche un momento abbastanza delegato per quest'ultimo quali valori avete con questa associazione su cosa puntate a fare sono tante comunque tante cose belle allora avisport nasce nel 2015 da un'idea del presidente di avis piangelo colavito e nasce proprio sulla lo stile di vita dei donatori di sangue e chi dona sangue è una persona che ovviamente deve essere fisicamente sana fisicamente in ordine deve avere un certo stile di vita anche un certo regime alimentare eccetera eccetera quindi uno stile di vita sano presuppone ovviamente delle attività anche sportive e quindi da quest'idea nasce pierangelo è un istruttore di nordic walking federato e tesserato per cui fondano con un gruppo di amici avis sport che da quasi subito diventa un'associazione parallela separata rispetto ad avis perché noi abbiamo un un nostro direttivo abbiamo una struttura diversa adesso con la riforma del terzo settore stiamo mettendoci in ordine per iscriverci al registro eccetera eccetera e appunto nasce su questa idea che il donatore deve avere uno stile di vita sano quindi deve muoversi camminare fare delle attività sportive e quindi mantenere il proprio corpo in funzione anche della donazione di sangue che lui realizza però poi su questo si innescano altre cose perché ovviamente come si forma un gruppo un gruppo che si consolida che si diventa amici che si esce a fare le camminate quindi poi si innescano una serie di attività di socialità di sicuramente è un'attività ludica ma non competitiva quindi noi non puntiamo a fare il cara vince ma puntiamo a avere uno stile di vita sano quindi a fare attività direttantistica e non competitiva eccoci ancora con il press mi stavi dicendo prima telecamere spente come era organizzata in linea di massimo la vostra società e io ti faccio la domanda in maniera come dire più precisa se vuoi anche spiegarla anche ai nostri lettori quante categorie avete su cosa lavorate in modo principale? allora è una polisportiva quindi aggrega vari tipi di sport una premessa è che non è solo per donatori di sangue la nostra attività è rivolta a tutta la cittadinanza a tutti quelli che vogliono fare attività fisica so che ci sono gruppi di cammino un po' organizzati anche dai comuni in tutti i paesi del circondario con cui siamo abbastanza in contatto ogni tanto abbiamo degli scambi e quindi è rivolta a tutti quelli che vogliono avere uno stile di vita sano donatori e non poi chiaramente noi facciamo la nostra propaganda se poi uno vuole anche diventare donatore ok se no non c'è nessunissimo problema la struttura dell'associazione era su nasce col nordic ma come polisportiva poi abbiamo aperto la sezione runner di cui poi parlerà il mio vicepresidente Cristra Sorino e poi abbiamo una sezione di ciclismo ammatoriale che stiamo cercando di lanciare anche qui vorremmo avere delle persone che hanno interesse a andare in giro con i nostri colori quindi con le nostre logo, le nostre magliette che abbiamo realizzato e che quindi si formi un nucleo che periodicamente in certi momenti della settimana ha deciso di riunirsi e di andare in giro con i nostri colori attualmente noi contiamo esattamente 208 soci e quindi la società ha una buona diffusione e la maggior parte si ritrova regolarmente o in allenamenti settimanali poi magari ne parliamo o in attività domenicali o attività di runner che ultimamente purtroppo col covid hanno avuto ovviamente una battuta d'arresto ma che erano in fortissima espansione fino all'anno scorso e quindi si ritrovano con i nostri colori a fare delle attività nudiche o sportive Siamo circa a metà di questa quinta puntata di Barastadio poi avremo anche Christian che da lì mi osserva e ride e prima era al telefono e parlava però è giusto così faccio un'ultima domanda insomma Renato tu sei come dire nel rango del nordic walking in cosa consiste e magari cosa prevede l'allenamento di questo tipo di categoria insomma molto bella anche Il nordic nasce come attività nei paesi nordici sono quelli che vedete in giro camminare con le racchette e quindi è un cammino assistito che fa lavorare sia la parte inferiore del corpo che la parte superiore e quindi dà una tonicità di un certo tipo si fanno camminate che vanno dai 5 ai 30 km a seconda delle attività l'attività della nostra associazione è strutturata in allenamenti settimanali e una volta ogni due settimane un'uscita domenicale o di fine settimana sui vari cammini tra le altre cose abbiamo organizzato due anni fa e tre anni fa la via Francigena 7-8 giorni su una media di 25-30 km al giorno partendo da Piacenza siamo arrivati ad Aulla quindi abbiamo fatto l'Appennino, il passo della Cisa e altro vorremmo fare la via Francigena all'inizio, in futuro quindi partire da Canterbury, partire da Inghilterra sbarcare in Francia e fare un pezzo in Francia e un'altra idea che sta balenando ma è tutta da verificare è un giro in Finlandia a vedere l'orara floreale perché tra le altre attività facciamo attività anche con le ciaspole sulla neve e quindi attività di vario genere poi come associazione con Christian e con gli altri ci vediamo anche in attività più ludiche nel senso il pranzo di Natale che l'associazione offre a tutti o attività più divertenti dal punto di vista della socialità ecco poi quindi abbiamo questo tipo di attività poi c'è l'attività di Fitness Outdoor che è nata da pochissimo quindi è fresca in cui si fa un'attività di cammino di simile palestra con la musica quindi con attività più giocose diciamo e anche questa è una nuova attività che sta partendo in questo momento per quanto invece riguarda il runner sicuramente Christian potrà dire molto meglio di me perché poi è stato lui che ha fatto nascere questo settore ha curato uno per uno tutti quelli che sono entrati e lui è stato bravissimo e quindi ha creato proprio questo settore ci siamo alla seconda parte di questa quinta puntata di Bar Stadio Renato è andato via era te sempre lì che ci guarda però è arrivato Christian Sorino ciao a tutti ciao Nicolò allora responsabile dei runner questa categoria molto importante molto bella in cosa consiste questo tipo di attività che è diversa dalle nordic walking immagino sì la nostra attività è diversa dal nordic quindi noi sistematicamente ci ritroviamo chi più 4 5 10 a volte capita soltanto io perché ognuno ha i propri impegni per correre per correre per stare insieme per divertirci insomma trascorrere un'ora due ore insieme nel parco Castello parco alto milanese insomma e poi in altre in altre situazioni anche al di fuori di Legnano perché noi piccola parentesi io mi sono unito alla famiglia di Avisport aprile 2018 venivo fuori da un lungo infortunio quindi quando sono stato contattato da presidente Avis Pierangelo Colavito e il professor Zucca Renato mi è stato chiesto cosa facciamo partiamo? e allora io ho dato la mia disponibilità e in quel momento dovevamo ripartire e rilanciarci quindi mi sono trovato con un gruppo runner praticamente c'ero soltanto io e da lì la gente gli amici anche persone che non mi conoscevano si sono uniti hanno visto il nostro materiale hanno visto il nostro progetto e quindi hanno deciso di darmi fiducia di darci fiducia e adesso il gruppo runner Avisport Legnano conta 30 persone che per me da dove siamo partiti a dove siamo arrivati ma non siamo arrivati un gioco di parole è tanto significa tanto un motivo di orgoglio per me tutto quello che stiamo facendo e che ho fatto perché ovviamente siamo conosciuti prima si parlava di Avisport il Nordic la camminata sportiva non c'era altro poi come ti ho detto vi ho detto ormai in qualsiasi posto vai Avisport Legnano gruppo runner c'è Piemonte Lombardia ci sono alcuni iscritti in Puglia la mia regione d'origine quindi ci tengo sono orgoglioso per questo e nelle Marche quindi si corre sempre uno due tre giorni a settimana comunque si corre ed è bello siamo tutti bene quindi nel senso poi abbiamo affrontato e stiamo affrontando ancora un periodo particolare per il discorso del coronavirus dove comunque c'erano delle disposizioni da rispettare sono state rispettate perché poi comunque ci scrivevano ci contattavano come facciamo cosa si può fare cosa non si può fare e a un certo punto anche se si poteva correre si poteva fare attività sportiva il nostro consiglio è stato quello comunque di fermarsi nel rispetto di tutti perché poi gli untori erano i runner a un certo momento e allora abbiamo preferito bloccare le attività e lì poi ci siamo dedicati alle corse virtuali cioè un'associazione organizza un evento tu ti scrivi ovviamente la maggior parte non sono a pagamento tu ti scrivi loro ti mandano il pettorale che tu stampi e fai una fotografia cioè corri dove vuoi in quel giorno poi ovviamente mandi il tuo tempo la fotografia e lì il nostro gruppo è stato anche in questo caso sempre presente in diverse situazioni in diverse città della Lombardia allora ci siamo eccoci dopo questo come dire monologo che hai fatto però molto importante e molto anche come dire interessante ti ho ascoltato e ti voglio fare una domanda così un po' strana senza che tu non sei nulla no no allora io allora penso che lo sport in tutta la sua essenza in tutte le sue categorie sia bellissimo aiuti tantissimo le persone quanto ha aiutato te e soprattutto la tua associazione a stare insieme il gruppo il valore che ti dà lo sport quello di fare squadra anche comunque in uno sport collettivo come può essere anche la corsa la camminata not walking e quanto ti piace fare queste attività quanto è importante per te sì ecco per me è importante è molto importante Nicolò chi mi conosce sa tra virgolette come sono e a me piace stare in un gruppo quindi proprio per quello che ti dicevo prima siamo riusciti a creare un bel gruppo il presidente vi ha detto un po' di numeri siamo arrivati a 200 più di 200 tesserati tesserarsi è molto semplice basta poco per farlo quindi può contattarci tranquillamente o sulla pagina facebook apd avisport legnano clicca mi piace anzi vi invito a farlo cliccate mi piace e lì basta inviare un messaggio oppure può contattare la nostra segreteria comunque è veramente molto bello quello che siamo riusciti a creare non nascondo che all'inizio ero un po' titubante perché venivamo fuori da una situazione particolare come associazione però alla fine ci siamo come ho detto prima e stiamo andando credo bene parlano i dati le attività e tutto quanto i tesserati poi volevo anche aggiungere una cosa non secondaria ma il discorso running può essere anche poi si può fare anche la camminata noi abbiamo ecco la camminata sportiva cioè un modo un po' più blando io lo definisco così della corsa anche lì sempre fatta quasi praticamente nel parco ci sono le nostre struttrici federali Laura Colombo e Manuel Azzugno che anche loro sono sempre presenti o qui parco castello parco alto milanese disponibilissime simpaticissime le saluto ciao quindi io non posso fare altro che invitare tutti quanti a visionare la nostra pagina facebook e a chiedere chiedete e vi sarà detto e dato come potete vedere il nostro merchandising infatti ti volevo chiedere se sono in vendita quanto costano sono veramente molto belle quasi quasi poi te ne prendo una allora sì noi come potete vedere una marca che sponsorizza anche l'Avis sono in vendita specialmente questa la t-shirt e la canotta mentre gli altri prodotti qui c'è questa felpa c'è il keyway l'altra t-shirt c'è un'azienda di legnano che collabora con noi disponibilissima e quindi ottimo materiale quindi inutile andare fuori per acquistare ce li abbiamo in casa e facciamo gruppo anche con il nostro materiale quindi viene data la t-shirt al momento dell'iscrizione insomma il gadget c'è basta iscriversi e correre fare camminata sportiva nordic e quant'altro fa bene se ci sono riuscito io ci possono riuscire tutti arrivati in conclusione di questa quinta puntata ragazzi barastallo siamo qui a legnano in redazione ricordiamolo siamo tornati alla nostra casa io ho l'ultima domanda per Christian allora avete comunque dato molta importanza ai social avete un facebook ma avete fatto anche un sito un nuovo sito com'è come siamo siamo in fase di costruzione si si Nicolo come ho già detto prima la nostra pagina facebook è sempre attiva viene quotidianamente movimentata diciamo così passatemi questo termine però c'è anche il nostro sito fase di quasi completato manca davvero poco uno a massimo due settimane www.avisport.it dove anche lì c'è il contatto per potersi iscrivere alla nostra polisportiva quindi noi continuo a dire ci siamo e ci saremo ok siamo giunti per i saluti sempre molto importanti anche divertenti qui a Barstadio io sono Nicolo Crespi Cristian Sorino ciao e grazie grazie a tutti